Buon pomeriggio da TripTV, siamo qui a darvi le notizie del giorno, siamo arrivati al 19 di febbraio, al martedì e chiaramente ancora ci sono echi in città per la scelerata scelta di continuare nella perversa decisione di fare questo outlet, anzi scusatemi, lo chiamano Welcome Center e quindi che significa? Significa che faranno 70 punti vendita teoricamente destinati ai croceristi, quindi come minimo non potrà più uscire nessuno dal porto perché non gli daranno neanche il permesso se fanno una cosa del genere e poi bisogna capire quanti civili del chiesa eventualmente non riescono andarci perché c'è tanta gente che lavora al porto, quindi anche se la vendita al cittadino dovrebbe essere vietata come assicurano, questo non accadrà. Tutti i contrari, l'unico favorevole è Consolino che non gli basta l'esperienza, lui e la sua giunta, alcuni suoi accoliti, non gli basta l'esperienza del forno crematorio dove era contro tutti, l'ha fatto fare e continua a funzionare nonostante il fatto che sia illegale, questo per l'onestà e la chiarezza di tutti, adesso continuiamo con quest'altra opera, un'opera che verrà lasciata ai posteri perché queste decisioni, caro sindaco, lei dovrebbe prendere colui che ritornerà a fare il sindaco. Ora dato che lei non si ha neanche voluto candidare e quindi questo la dice lunga sul suo attaccamento alla città e sul suo operato perché se avesse fatto bene probabilmente restava dentro, come tutti i sindaci che vanno al secondo e chi vuole anche al terzo mandato, però questo non accade, così come accade che oggi i suoi dirigenti nazionali dei 5 stelle votano per non far condannare o comunque incriminare Salvini che è il vostro alleato attuale, ma nel 2014 gli stessi che oggi hanno detto così gli davano all'untore a chi veniva e chiedeva di non essere processato, altri parlamentari, altri tempi, quello che volete voi, però questa è la teoria dei 5 stelle, quando tocca agli altri gli si dà giù, quando tocca a noi cerchiamo di evitare. Questa teoria l'avete confermata in questi 5 anni e continuate a confermarla, quindi adesso sta a voi di mostrare il contrario perché questo è quello che succede. Per tutto il resto è noia come diceva Califano, nel senso che non c'è una cosa, il canile è andato nell'oblio, mentre da allumiere dicono il vero canile è quello di allumiere, c'erano anche le piccolissime cose, le stupidaggini, le strade, in questo momento sta facendo una grande campagna mediatica sui social, abbiamo fatto questo, ma non avete fatto niente per 5 anni, è chiaro che adesso qualche cosa state facendo, ma impieremo clima elettorale, come i più beceri partiti della prima repubblica. Allora dov'è la differenza tra voi che non avete amministrato e tra quelli che rubavano ma meno amministravano? Tutte e due state facendo le strade adesso, tutte e due vi state dando da fare in questi ultimi 4 mesi, 3 mesi anzi ne sono mancati, a Napoli si dice faci mammuina, ma questo lo faceva a Masaniello, qui state facendo le stesse cose avendo fatto molto peggio durante il quinquennio, perché non c'è una cosa, anche il fatto che avete risanato il bilancio sindaco, ce lo dimostri, perché io ho ancora un bilancio definitivo, quindi consultivo, e dei bilanci di previsione devo farlocchi con le entrate del porto che non sono mai entrate, il bilancio definitivo, dove stanno tutti questi milioni di euro recuperati? Quanto era il disavanzo quando siete arrivati e quanto è adesso? Questi sono, cioè i numeri non sono come la pelle di Apollo, cioè non si possono tirare di qua di là, sono numeri, quindi se ci sono 3 milioni di deficit ci devono essere 3 milioni sanati, quindi decidete voi quando tirarli fuori, possibilmente prima del 26 maggio, oppure non parlate di bilanci risanati, fateci capire esattamente carta canta come si dice, quindi ci sono le interrogazioni, ci sono le registrazioni, ci sono le registrazioni delle vostre interviste, così come la differenziata, Maruetta state distribuendo dei moduli, che si dice che partiva il 18 di novembre, l'avete scritto sui moduli del comune, li state ancora distribuendo, forse partirà il 28 febbraio, ma vi rendete conto che caos, bidoni che girano da una parte in alto della città, da tutte le parti, prima erano soli i cassonetti, che facevano comunque schifo, brutti, adesso ce l'ha differenziata, tutti questi cassonetti che girano, i condomini che devono pagare, non si sa le murte che verranno perché sono una cosa indigna, non essendoci assegnato il nominativo al cassonetto, né c'è il chip del cittadino che per dentro mettete e sicuramente non diminuisce nulla, è come la CEA, a CEA abbiamo tutto, partiamo, l'unico comune che ha accettato di andare nell'acqua privata, è Civitavecchia, dice ma ce l'obbliga la legge, ma gli altri sono dati fuori leggi, è Civitavecchia c'è le bollette più care, ne parleremo in settimana, senza acqua, perché due persone oggi a Bari dicevano, ma io devo pagare tutti questi soldi, questa sì è la contro, ma io l'acqua ce l'ho mai avuta per quattro mesi, quindi siamo peggio del terzo mondo, perché a meno lì c'è un problema, c'è la guerra, c'è la carestia, qui c'è niente, qui c'è solo la negligenza delle persone, adesso c'è il censimento degli alberi, perfetto, stupendo, bello, però per cinque anni non è stato potato un albero, lo state facendo adesso, quindi che problema c'è? Perché lo fate adesso? È perché ci sono le elezioni, perché sennò lo potete fare l'anno scorso, bastavano quattro anni per fare i censimenti? No, se fa adesso, perché adesso ci sono le elezioni, allora caro Consolino e la tua giunta, siete peggio del più peggio che c'è stato prima, perché almeno quelli erano della prima repubblica, voi siete della terza repubblica ma state facendo peggio, facendo anche l'inaugurazione, adesso ci sarà il mese di aprile, un'inaugurazione continua dei pezzi di strada, degli angoli di quel poco che è stato fatto, perché va inaugurato, è perché giustamente bisogna presenziare e farsi le foto. Comunque detto questo, dello sport è solo due parole, ha pareggiato il calcio dove è stata rubata una partita da un arbitro un po' farlocco che ha dato un rigore alla fine, ci è che è andato tre volte in vantaggio e tre volte è stato raggiunto, l'ultima tre minuti dalla fine su questo rigore, mentre sembra aver trovato la ricetta giusta la palla a nuoto con la SNC che torna con una vittoria da 0-6 a suo favore, ha vinto poi 4-6, ma comunque ha vinto, si è portata a metà classifica e ha distaccato tante squadre alle sue spalle. Ricordiamo che la palla a nuoto sarà l'ultimo turno sabato prossimo dell'andata, se l'andata si gira sopra intorno ai 15 punti siamo a metà dell'opera perché i play-out ci si salva con almeno 25 punti, questo dice sempre i numeri negli anni passati, quindi c'è che c'è attualmente 13, c'è ancora una partita in casa e poi riprenderà in casa alla prima di ritorno dopo la sosta. Questo è tutto con le notizie, appuntamento a domani.